Siamo nel mezzo della nuova ondata Covid, il cui picco è prevedibile a fine luglio e quanto affermato dal virologo Preghiasco, cada la vendita di mascherine igienizzanti mentre sono in crescita i tamponi fai dati e i casi Covid. Nel giorno che segna all'inizio dell'estate il quadro è questo, al di là di un atteso allentamento delle precauzioni, la ritrovata normalità nasconte delle insidie, prima fra tutte quella dei contagi sommersi che rischia di fornire un quadro non fedele della diffusione del virus. Per gli esperti i numeri dei bollettini quotidiani non rappresentano lo stato reale delle cose. I test anti-Covid di autodiagnosi stanno falsando il quadro generale dell'andamento epidemico e si può supporre che positivi in totale siano in realtà attualmente circa un milione considerando che l'esito positivo del test di autodiagnosi spesso non è comunicato dai cittadini. In questo contesto precisano gli esperti il rischio è quello di una sottostima della reale circolazione del SARS-CoV-2 con un conseguente aumento dei ricoveri nelle prossime settimane e anche dei decessi. L'andamento del Covid va monitorato ma senza trasmettere messaggi di troppa preoccupazione o allarmismo perché la situazione al momento è sotto controllo. Sono invece queste le parole del sottosegretario alla salute Andrea Costa che sottolinea come non bisogna confondere la prudenza con la paura.